Un terremoto politico, quello che è avvenuto a Cassino in giornata dopo che la procura della Repubblica di Cassino ha chiuso due importanti indagini, quella sul voto di scambio e sulle firme false. A finire nei guai per il voto di scambio è stato il consigliere comunale di maggioranza Tommaso Marrocco in forza al PD, mentre per false firme è finita nei guai l'ex consigliere provinciale Alessandra Sardellitti, oggi consigliere comunale al comune di Frusinone. Le indagini coordinate dai magistrati Roberto Bulgarini-Nomi ed Emanuele De Franco si sono incentrate soprattutto sui ipotetici reati commessi dagli indagati. La decisione dei magistrati ha scatenato una sorta di bailam politico con i consiglieri di minoranza e soprattutto quelli che fanno opposizione extra consigliere e intendono chiedere chiarimenti al sindaco che in questo momento si trova in viaggio ad accompagnare la fiaccola Benedettina il cui arrivo è previsto per il 20 di marzo a Montecassino. Noi abbiamo notizie dagli organi di stampa, notizie della conclusione di due indagini che sono state anche molto approfondite e con un lasso di tempo importante e da queste notizie dagli organi di stampa vengono fuori la prima indagine, quella sulle firme false a sostegno della lista. Il problema non solo riguarda coloro che sarebbero indagati, che sono colui o colei che ha sottoscritto, autenticato le firme e altre due persone. Questa indagine ha delle ripercussioni importanti, fondamentali direi sulla vita politica cittadina perché riguarda la presentazione della lista del Partito Democratico che è la lista del Partito che ha sostenuto maggiormente la candidatura a sindaco dell'attuale sindaco Salera. Quindi capirete bene che delle irregolarità, in questo caso delle falsità, neanche solo irregolarità, vanno a inficiare tutto il sistema elettorale di quella coalizione. E quindi al di là del fatto se queste firme, ho letto 47 firme sarebbero state non autenticate regolarmente o false, questo non l'abbiamo ancora capito, e se queste 47 firme superano meno la cosiddetta prova di resistenza. Ma al di là di questo sono delle irregolarità talmente importanti che ci fanno pensare, anzi, ci fanno assolutamente mettere nelle condizioni di richiedere dei chiarimenti a questa amministrazione e anche al prefetto di Frosiloma. Poi parallelamente, guarda caso, proprio nello stesso momento, si concludono le indagini anche di un'altra indagine che riguardava il cosiddetto voto di scambio e che coinvolge questa volta direttamente un consigliere comunale, guarda caso, del Partito Democratico. Quindi ci troviamo di fronte davvero a una ipotesi accusatoria che non riguarda solo le singole persone, ma riguarda la politica cittadina. E quindi a questo punto io ritengo che se le cose dovessero essere confermate, ma anche solo in questo Stato giudiziario, c'è una delegittimazione dell'attuale amministrazione, perché ricordiamolo, la lista del Partito Democratico è la lista maggiormente interessata e che ha sostenuto la candidatura di Salera, è la lista che attualmente ha in Consiglio Comunale la maggiore rappresentanza consigliare con ben sette consiglieri comunali. Quindi adesso io mi vedrò con alcuni dell'opposizione, vediamo che cosa possiamo fare per quantomeno richiedere una spiegazione da parte dell'attuale sindaco e da parte dell'attuale amministrazione. Io ho una querela a mio carico per diffamazione a mezzo stampa che riguarda una vicenda di una locazione, di locali da parte dell'amministrazione. Ma al di là di questo, noi siamo rimasti per molto tempo, durante tutto il periodo di queste indagini, silenti, perché abbiamo rispetto negli organi inquirenti, abbiamo rispetto nella magistratura e quindi non sapevamo chiaramente di queste indagini e della gravità delle accuse che sostengono queste indagini e non volevamo condizionare in alcun modo chi doveva poi deve svolgere queste indagini. Ma sicuramente sapevamo e sappiamo della gravità di queste due indagini delle imputazioni che sottengono a queste indagini e quindi a questo punto davvero ci poniamo il problema se questa amministrazione e questo sindaco siano legittimati a continuare il loro percorso amministrativo. L'inchiesta parte da un mio esposto che tornassi indietro non lo rifarei, perché da allora mi sono capitate troppi problemi, una serie di denunce, quindi non voglio essere un eroe, voglio essere semplicemente un cittadino, volevo essere un consigliere comunale, oggi non lo sono più, però quello che ho fatto allora è semplicemente denunciare, cioè fare un esposto perché sono venuto a conoscenza, mi è stato detto davanti ad altri soggetti, tra cui da altri due consiglieri comunali e un'altra persona che c'erano stati dei brogli sulle firme del Partito Democratico. E io da cittadino e da consigliere sono andato in procura a dirlo, questo è tutto, questo è stato l'inizio. Contestualmente, diciamo, nello stesso periodo ho saputo di questa donna che denunciava, che io anche conosco tra l'altro, un voto di scambio sostanzialmente, quello di cui oggi si parla, e che oggi è uscito fuori. Io spero che si faccia chiarezza al più presto, ma lo chiedo oggi da cittadino, non più da consigliere comunale, si faccia chiarezza al più presto perché questa città deve essere amministrata in maniera legittima da tutti quanti. Non in colpo nessuno, perché questo aspetta la magistratura, ma spero che si faccia chiarezza, si chiuda la vicenda al più presto possibile perché la città merita chiarezza.